Carissimi carissimi bentornati nel canale di Sweet Italy Adventure, sono sempre Walter, in realtà siamo in estate, questo video mi vedrete con il cappello, con la sciarpa perché faceva veramente molto freddo, è un video che avevo preparato diversi mesi fa, in realtà non era piano inverno in Italia ma era ancora piano inverno per noi qui in Svezia, della prova di una power station, questi praticamente power bank giganteschi che mi ero praticamente scordato di farvi vedere. Inoltre che Victor il vichingo, chi segue il canale forse se lo ricorda, mi doveva mandare delle immagini per chi lo doveva provare un po' in alcune condizioni e quindi sappiate che non sono andato fuori di testa se mi vedrete col cappello, la sciarpa e tutto quanto ma che è un video che avevo preparato quando ancora faceva freddo. Ve lo voglio fare vedere oggi, spero che vi piaccia, io vi saluto, vi mando al Walter di alcuni mesi fa e un caro abbraccio al prossimo video. Carissimi bentornati nel canale di Sweet Italy Adventure, sempre Walter e come al solito sempre in Svezia, oggi tempo molto uggioso, pensate che nei giorni precedenti c'era il sole, sembrava quasi primavera e invece oggi siamo a due gradi sotto zero e pensate che hanno messo che domani e dopodomani deve anche nevicare. Va bene, questa è la Svezia. Spero che stiate tutti bene e da voi che tempo fa? Ma non voglio perdermi troppo in chiacchiere, in uno dei video precedenti avete visto la recensione della Power Station della Blitzwolf da 500 Watt. Ha riscosso molto successo ed alcuni di voi mi hanno chiesto se avevo da farvi vedere una qualche Power Station con caratteristiche simili ma un pochettino più economica e di conseguenza anche un pochettino più piccola. Questa è una Power Station che costa più o meno la metà. La potete trovare poco sotto i 200 euro da 80.000 mAh anziché i 124.800 che aveva invece la Blitzwolf. Intanto vi do un po' di indicazioni e di specifiche tecniche. Lei è in grado di erogare una potenza a 220 V, quindi possiamo attaccarlo anche con le prese domestiche di casa, possiamo sicuramente attaccare un ventilatore o comunque tutti i apparati che non superano i 300 Watt. Lei infatti è in grado di erogare in continuo 300 Watt e in picco 500 Watt. Pesa poco più di 3 kg, per la precisione 3,100 kg o 3,92 kg. Misura 27 cm nella parte più lunga per 110 mm, quindi 11 cm e nella parte, nell'altezza invece misura 185 mm, 18,5 cm. Una cosa molto buona di questa Power Station è che lei è in grado di ricaricare tramite la presa USB di tipo C dei portatili fino a 65 Watt, che in realtà nella concorrenza troviamo quasi sempre attacchi a 18 Watt, quindi lei è quasi 4 volte più veloce. Praticamente l'unica cosa che mette freno all'uso di una Power Station è davvero la fantasia. Vi faccio un'ipotesi, siete in campeggio, potete addirittura attaccarci un mini proiettore o comunque un ventilatore nelle giornate di caldo e sicuramente con 80.000 mAh e con un ventilatore da circa 60 Watt potrete utilizzarlo per 5-6 ore di continuo. Oppure ricaricare il vostro laptop almeno 6 volte e non ho fatto i conti ma sicuramente ricaricare il vostro smartphone almeno 50 volte penso. Ecco queste sono le dimensioni della Power Station come vedete è veramente molto compatta, veramente molto ben fatta, qui c'era un po' di polistirolo attaccato perché lei arriva in una confezione molto ben protetta, c'è il cavo per ricaricare la Power Station e come vediamo qui abbiamo tutte le prese, mi avvicino per farvele vedere. Abbiamo la presa fra l'altro internazionale quindi non solo le prese europee ma anche le prese americane e quelle cinesi, la presa USB di tipo C, doppia presa USB, le prese DC a 12 Volt ce ne sono due e la presa a 12 Volt per ricaricare l'apparato. Qui abbiamo un ingresso di areazione perché al posteriore invece abbiamo una ventola per il raffreddamento di tutta l'elettronica interna. Per accenderla basterà premere sull'interruttore e qui ci dà anche il LED dello stato di ricarica della batteria interna. La ventola fra l'altro è in automatico quindi se lei non ha bisogno di raffreddare l'elettronica sarà completamente silenzioso. Inoltre perché no, sull'anteriore c'è anche una luce a LED molto potente da 3 W, questa è la potenza minore, questa abbiamo la potenza maggiore e poi abbiamo anche la possibilità di fargli fare i lampeggi per le emergenze. Tenendo premuto la spengiamo. Bene ragazzi con questo freddo e questo vento, anzi no il vento non c'è comunque io, spero che questo video vi abbia fatto piacere, se così fosse lasciatemi un pollice in su e lasciatemi un commento per dirmi cosa ne pensate. Io con il Jabu da 300 W, vi saluto e ci vediamo alla prossima recensione.